Quella è la F purtroppo, oddio, a parte che è proprio brutta, cosa sta facendo? Ok, io non so che cosa sia successo e non so... No, 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 assolutamente, adesso sapete cosa farò? Farò questo, non mi interessa. In realtà so cosa è successo, questo mondo si sgretola da solo, cioè nel senso si rompe tutto da solo, e praticamente dove camminiamo potrebbe esserci una piccola probabilità che cada tutto quanto, come vedete, e questo mondo pian piano si sta cancellando da solo. Io sono uscito da quel buco terribile e adesso mi devo fare un po' di cibo. Che mondo spaventoso. Ma che... no, cosa sei? Cosa dovresti essere tu? La mia teoria è che probabilmente F potrebbe avere qualche effetto su questo mondo. No, avete visto, porca di quelli... Allora, bisogna stare attenti, raga, perché qua io devo praticamente farmi tipo... Ma nemmeno una casa, cioè, secondo me devo farmi, ecco, un'armatura, raga, qua non ci vivo praticamente. Ma raga, praticamente fra questi lama, che secondo me anche loro sono un pochino maledetti, ho trovato questo strano ingresso. Ed effettivamente vorrei capire che cosa è, vorrei capire meglio. Allora, qua sembra che ci sia una stanza, ed è tutto, cioè, molto strano, dove praticamente ci sono delle Wither Rose, che tecnicamente fanno anche male, soprattutto se ci sto troppo qua. C'è scritto, attenzione, ti chiedo di fare attenzione, ho detto, fai attenzione, ora ti uccido. Ma chi è? Io ogni volta sono sempre più scioccato da queste cose. Perché non ce la porto? Perché non ce la porta? Oh, no, no, non ho ricapitato. Io non posso spaccare niente, raga, sono bloccato qua, cioè, nel senso, non... Ok, qua c'è un ascensore ed effettivamente potrei andare avanti, perché evidentemente, siccome non posso spaccare niente, è l'unica cosa che posso fare. Niente, assurdo, è successo di nuovo. È successo anche un'altra volta così. Niente, praticamente ora mi si presenterà davanti il tizio antipatico, tipo F, probabilmente mi si presenterà davanti e mi ucciderà, tipo una roba del genere. E raga, io non ho... Cosa? Ma non c'era nessuno? E, ok, va bene, andiamo avanti. Allora, ehm... Cendo, no, salgo... F! No, 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 no. Scapporca di quella miseria! Raga, se non l'uccido, se non l'uccido mi uccide lui, se no... Me ne posso scappare, però. Oh, no, raga, cosa faccio? Perché ho un problema Perché io qua non posso spaccare niente Non ho nemmeno tipo un piccone Un qualcosa per poter ucciderlo Accidenti Però Lui sta messo peggio di me Ok Oddio Sono caduto Aiuto 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 Tutto ok Perfetto bene Ok E giorno Ok Prima che cada di nuovo il pavimento da sotto Ditemi se volete vedere altri segreti e misteri in questo mondo di Minecraft Lasciate like e iscrivetevi Grazie